Con grande rammarico abbiamo scelto di non partecipare alla cerimonia per i festeggiamenti che riguardano il corpo della Polizia Venitenziaria. La base di questa motivazione c'è il fatto che c'è una totale assenza di relazioni sindacali con il provveditore, la dottoressa Castellano, e quindi per dare un segnale forte proprio in questa giornata abbiamo deciso che non c'è niente da festeggiare e quindi non parteciperemo alla festa del corpo. Questo accade in Campania, ad Avellino, qual è l'appello? L'appello è che il direttore che si è insedato temporaneamente per tre mesi in questo momento ad Avellino, che è la dottoressa Felago, inizia ad avere delle relazioni sindacali con le organizzazioni perché mi sembra che sia sulla stessa scia del provveditore. Quindi noi stiamo chiedendo di mettere delle regole, siamo in attesa di discutere di un protocollo di indesza locale che ancora non c'è, che è quello che poi stabilisce le regole e le regolamenti all'interno dell'istituto. Segretario, l'ultima domanda ad Avellino e in Campania. Che estate sarà nelle carceri? Si pronunciano mesi critici perché in alcuni istituti tipo Salerno, il direttore ci ha fatto sapere con una nota scritta addirittura, che non farà il piano ferie, i colleghi non riusciranno ad andare in ferie come in tanti altri istituti. Quindi noi proprio per questo, come ho detto poc'anzi, non parteciperemo alla festa del corpo e aspettiamo un segnale forte da parte del provveditore. Grazie a tutti.